Prendono il via anche per l'estate 2019 gli accertamenti per il rispetto delle ordinanze comunali e demaniali marittime vigenti, regole basilari del vivere civile da far rispettare a cittadini e turisti ai fini di tutelare quello che è il decoro nel comune di Castellabate. Per tali motivi l'amministrazione comunale con l'assessore al turismo e alla cultura Luisa Maiuri, in sinergia con il consigliere con delega al demanio Marco Di Biasi di Castellabate, decide di puntare alla qualità del decoro al rispetto delle regole in spiaggia e non solo per tutelare l'immagine del territorio, una delle punte di diamante delle destinazioni cilentane per le vacanze al mare. Il comandante della Polizia Municipale, dottoressa Manola D'Amato, appena insediato, ha già dato il via a diverse operazioni di controllo per contrastare alcune difformità alle normative vigenti, quale occupazione non autorizzata di suolo pubblico, commercio abusivo rispetto della nuova disciplina della raccolta differenziata e ulteriori altri controlli tesi a contrastare le passeggiate a torso nudo e l'ingresso con costume da bagno nelle attività di commercio. Si punta inoltre per il proseguo della stagione balneare a collaborare in stretta sinergia con la Guardia Costiera di Castellabate, guidata dal comandante Sandro Rizzo, dando inizio a breve ad una serie di controlli lungo tutto il litorale per verificare il rispetto delle regole e spiaggia, al fine di bandire il fenomeno dell'abbandono sull'arenile dopo il tramonto degli ombrelloni e la vendita e l'occupazione non autorizzata nell'area demaneale. Al fine di tutelare il turismo in generale, anche quest'anno sono partite le operazioni volte al controllo dell'imposta di soggiorno prevista dal comune di Castellabate e il controllo degli alloggi per le case vacanza non in regola con la legge regionale numero 17, supportati anche dall'incrocio con i dati forniti dalla nuova piattaforma PayTourist. Il vice sindaco, con delega al turismo e alla cultura, Luisa Maiuri, commenta così l'ormai consueto iter di controlli. Castellabate è una località turistica di primo ordine che può ambire ad un turismo di qualità, per questo con azioni mirate sempre più organizzate e con il supporto operativo delle forze dell'ordine bisognerà contrastare senza mezze misure i fastidiosi fenomeni di malcostume.